E' attesa per il prossimo mese di ottobre la sentenza per i due imputati dell'omicidio di Giuseppe Matarazzo, il pastore di Frasso d'Alesino, uccisa a colpi di pistola il 19 luglio del 2018, un mese dopo aver finito di scontare una condanna a 11 anni e 6 mesi perché riconosciuto responsabile di abusi sessuali ai danni della quindicenne che il 6 gennaio del lontano 2008 si era tolta la vita impiccandosi ad un albero. Due gli imputati per il delitto, si tratta di un 57enne di Sant'Agata dei Goti, proprietario della 357 Magnum, indicata dall'accusa compatibile con l'arma del delitto, e un 32enne di San Felice a Cancello. Questa mattina in aula del Tribunale di Benevento, nuovo scontro tra le parti proprio sulla pistola. Nessun dubbio sull'arma per il perito incaricato dalla Corte di Assisa nel processo. Conclusioni ribadite in avola a luglio e questa mattina contrastate dalla difesa del 57enne, secondo i quali ci sarebbero delle contraddizioni in merito al corretto allineamento tra il proiettile test e quello repertato, alla mancata indicazione del numero delle strie, al mancato confronto per stabilire se fossero tutti della stessa pistola. Il sostituto procuratore, Francesco Sansobrini, ha reiterato la richiesta di ergastolo per i due imputati. Gli avvocati difensori hanno invece sollecitato l'assoluzione.